Alto piano. Per il lupo necessario avviare un serio progetto per la convivenza. La Lab, la Lega Antivivi Sezione, incontra l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan. La Regione Veneto predisponga un progetto attivo tutto l'anno sul territorio che preveda azioni per la prevenzione delle predazioni, attivando soluzioni più efficaci e garantendone la loro incolumità. Il lupo è tornato su tutto l'arco alpino per restarci, spiega la Lab. e va preservato.